Ciao a tutti che ciotti e benvenuti qui ma 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 maria ma 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 Ciao a tutti ciotti e benvenuti in questo prossimo episodio di Sky Hunt Farm Survival Sky Hunt Fail, Hunt Fail perché questo, penso mi si sia bugata la mappa perché a volte quando muoio mi entendi un loop di respawn infinito ma che più infinito non è che non si può, si può ma è pericoloso Pericoloso dare oltre quel livello di infinito perché è peggio cose, se cadi nel nulla il casino più totale continua a spawnarti nel nulla e muori e muori e te vai avanti e muori e muori e giù così Comunque alla fine stavo cercando per l'appunto tra lo scorso episodio e questo di ottenere un pezzo di merda diamantato Ci sono riuscito ci sono riuscito al problema è che sono morto quando sono tornato ed esponato Ed è stato molto molto divertente insomma Tanti tantissimo no 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 non mi lasciare amore mio ti amo afferra la mia ma Ci sono ci sono sono arrivato mentre cantavo jessica ti amo la canzone bellissima cercata su youtube una figata con la canzone E' trash peggio peggio di gemma del sud però è bella quella canzone cioè se attaccano in discoteca io mi ci metto a ballare Ok brutti suggerimenti Con quella c'è uno scheletro che potrebbe dar qualche problema qua sopra c'è una pecora e io vado veloce veloce di qua e infatti Mi sono anche creato una cosa che scende però finché non spawna il cagno bastardo non posso scendere Quindi ora aspetterò i miei 180 secondi che sono tre minuti per vedere se Se spawna in una zona accessibile perché anche se non spawna In una zona accessibile in effetti tanto sempre muoio Perché devo anche fare una missione di oh my god oh my god posa Metti le torce Mori Come vedete c'è un po' di torce alimentare che mi piace tantissimo piazzare Non perché io sia un maniaco delle luci Ma perché semplicemente se piazzo le torce dopo non mi spawnano i cagni bastardi e credetemi è una cosa positiva Ora piccolo problema come cazzo ci torno là sopra io Ah beh c'ho la scaletta a usare una scaletta c'è ragione c'è ragione Comunque mi avete ho letto i commenti e praticamente eccolo qui Ti voglio bene ti voglio bene dammi i diamanti Tranquillo possiamo stare qua anche 20 ore Basta che che mi dai diamanti siamo tutti con voi a quanto cazzo ci mette Eh ma non sei cagno per davvero Ciao Vieni vieni buttami No buttati te buttati te non mi colpire Guarda mi ha colpito veloce 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 Aia Ok Se riesco Tento di tornare su Proviamo da qua Buongiorno signor agio Oh dei ai 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 Guardati a quel paese Perfetto Cosa vuoi lì ancora Eh da vabbè No 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 Papapapá Papapapapaparapapapapapapapapapara Natale che me ne da solo uno però posto non solo è capito che c'ho fortuna e quindi ci si salva il popò Però comunque sei un po' stronzo che non solo ci metti tre minuti a spawnare E' già una rottura e se permettete Non solo ma pensi mi dai anche solo un pezzo di diamante strunz Se mai Signor maiale come la va battere merda signor maiale è morto È stato bello signor maiale è stato bellissimo conoscerla Perché sono sceso di nuovo? Su coglione su coglione forte dov'è la salita La Va bene va beggio che ci sono prima che un po di questa serve sempre si sa mai Tocca creare una fornace No qua sotto c'è qualcosa un po' di pietra O che culo me l'ha dato lo stesso quella no che poi ci vediamo sopra Perfetto abbiamo verificato che lo spawner diamanti funziona abbiamo verificato come funziona quindi ci vuole un po' da ammazzarlo anche con la spalla di diamante E ci da solamente un pezzetto di diamante che poi vabbè noi con la fortuna la Proprio la creiamo di brutto questa mappa cioè le peggiori cose Cioè mi ha dato 5 diamanti? Avevo due diamanti prima mi ha dato 5 diamanti quel singolo pezzo Non mi lamento non mi lamento Non mi lamento Però Allora prima vi stavo dicendo che ho letto i commenti e mi avete praticamente tutti detto che va bene Utilizzare la creative per riparare l'elmetto dato che è per l'appunto un bug di quando ho caricato la mappa con la versione precedente e mi sono dovuto dare l'elmetto senza infinità per così dire Mi ha detto Sura mettici l'unbreaking 10 così ti dura 3000 volte di più Non so se si può mettere l'unbreaking 10 Sinceramente non ci ho mai provato ma non so mai cosa si possa fare Vabbè quello che so è che qua c'è il mio amichetto del carbone e il mio amichetto del carbone mi sta molto simpatico Perché il carbone mi serve sempre e infatti tre pezzetti di carbone che tra l'altro ora con la fortuna vorrei farvi notare che anche il carbone Anche il carbone si va meglio con la fortuna guarda qua c'è tre pezzetti mi ha dato otto pezzi peggio cose Buongiorno signor pollo come la va tutto bene da un po' che non ci sentiamo eh Sono contento sono contento Ah buongiorno signor pollo anche lei Va bene va bene Allora devo andare avanti devo andare avanti perché ci mancano ancora dei dungeon La cosa delle fiamme io ve l'ho detto la teniamo un po' da parte perché ora tutta l'armatura in diamante Quindi potrei anche andarci mi fanno un cazzo i blaze come volete Però Io la butto lì Cosa cazzo c'è là? Oltre al mio fratello che ha iniziato a suonare il pianoforte Non lo so ma non lo so ma sul serio perché L'ho cercato dappertutto c'ho preso un bordello di tempo Tutto bene tutto bene sono operativo sono operativo Ok si va avanti così perché noi fotte sega essenzialmente si mangia la patata e si va Si mangia la patata e si va nuovo il nuovo motto surreale mangia la patata e vai mangia la patata Buongiorno E vabbè cos'è E si La mafia Vai vai vienici 10 10 10 Ah vedi che Merda No Ah merda Sono ancora vivo sono ancora vivo operativo operativo Veloce Veloce davanti prima che venga addosso Ok ok Veloce Ci sono perfetto 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 Allora fino a qua non c'ero mai arrivato C'è della sabbia Questa terra io non la trovo ma è il po come si chiama pod and bisogno di silta c'è dov'è l'osso la margherita Come si chiama pozzola il pozzo io non lo trovo mai nella mia ma in minecraftita mi piacerebbe tantissimo pozzola ma non l'ho mai trovato Gravela anche la grave qua lascia stare ma non vorrei fosse un dungeon questo con tutte ste robette Buongiorno buongiorno come la va tutto bene no non può essere un dungeon troppo Troppo Aperto Morice male per favore Qua c'è altra terra ci sono altre robe Sono abbastanza sicuro che ci sia un dungeon Vicino a noi Tua zia Eh ma quanto cazzo spari veloce te Ma dana ti butto a fangala Ok mangia la patata E via Ok Tra lallero tra lallà sciuri 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 Eh eh Perché c'è una croce fatta di gravel Cos'è un segno è un avvertimento Dovrei scappare Io non scapperò Perché io sono Power Finita la mappa Eh Eh Finita la mappa Ehm Ghiaccio Vero del ghiaccio Quindi noi fotte sega si scende Si scende perché noi siamo dei pro della madonna Cos'è quello? Quello è bedrock normale Vai 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 Scendiamo da qua Che se abbiamo il supporto della Della bedrock barra vetro che C'è la texture figa Che a volte mi scordo anche di levarla la texture Me lo dite no? Che nei minigame oppure a minecraftita No la minecraftita è il solito controllo Però tipo nei minigame A volte c'è la Tua zia c'è C'è tua zia C'è tua zia? Ok ok non so cosa è successo Mi sono ritrovato sulla cosa penale d'ossidiana Con due cuori e mezzo Perché sono caduto dalla sotto E tu che cazzo sei? E no E no Nessuno mi ha detto Cosa sei perché non mi fai uccidere? Vai via Cosa mi ha dato? Niente non mi ha dato Si droga Si droga Mi ha dato un bordello di ossa Mi ha dato Ok ok Qua c'è Un altro Spawner Con degli scheletri Eh ma la cocaina Chi te la taglia? Perfetto Beh abbiamo capito Che in questa mappa C'è ancora un bordello di roba da fare Essenzialmente Si Si Io vi ringrazio tantissimo per il video Vi volevo lasciare un mi piace Se vi è piaciuto questo episodio E niente Ciao Tutto tutti Wake up Wake up